Buongiorno a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video su Maya Stories Oggi siamo qui a Rimini, ovviamente con il nostro carissimo camper e stiamo per andare a San Marino però prima vi vorrei mostrare la persona che ci ha ospitato e anche tutta quanta la mia famiglia che è qui con noi Allora Adesso vi presenteremo tutti Ciao zia Salve Allora come ti chiamo? Mi chiamo Sara Ok Zia Sara Adesso vogliamo presentare il fidanzato Il Simo Il Simo Salve Zio Ciao Ok Ora presentiamo il festeggiato della situazione Ziale Salve buonasera Salve E qui chi c'è invece? Bob Il grande Bob Adesso presentiamo la persona che ci ha ospitato a casa E chi? No Ma perché è il mio rimasto? Questo qui Otto Buonasera Buongiorno L'abitatore Come si chiama lei? L'abitatore che ci ha ospitato Come si chiama lei? Sei? Sei? Beh io? Io? Ah io? Ah io sono Totò Antonio Totò Totò per gli amici Ok 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 adesso presentiamo mio nonno Salve sono il nonno di Maya E come ti chiami? Luciano Luciano E adesso c'è Zia Cris Buongiorno Buongiorno E poi c'è mamma Buongiorno Buongiorno Come ti chiami? Sempre Sara Sempre Sara Ok Mamma Non abbiamo fatto la trasformazione di nome E poi c'è papà Buongiorno a tutti signori miei Come ti chiami? E qua c'è Sofia Ciao Sofi Come ti chiami? Sofia Sofia Tu sei la mia sorellina Piccolina Ok E adesso andiamo a San Marino Ciao Ok Quindi nonno piano è sopra Nonno piano è sopra Buongiorno Ecco Sono sempre io Quello di prima Dove ci troviamo? Zia Antonio Ci troviamo a San Marino Nell'ascensore Nel parcheggio Di San Marino Ma usciremo da questa ascensore Forse Forse usciremo anche dall'ascensore Maia tu che cosa ne pensi? Che ziggio è questo? Vomitando Nove Ci siamo L'albero di Natale Eccolo Venite Ecco perché in mezzo Eccolo Il nostro corso gratuito è www.mesmerism.info Il nostro corso gratuito è www.mesmerism.info Il nostro corso gratuito è www.mesmerism.info Ecco, scenografico, vero Maya? Non è riuscito a partire, ora devi aspettare altri 15 minuti Siamo a San Marino e mi piace molto Adesso stiamo prendendo la via Passo delle Streghe San Marino è troppo bella È bellissima, ci sono mille cose San Marino è troppo bella 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 San Marino è troppo bella